Barba curata, giacca elegante, lo sguardo disteso in camera per il selfie in piazza Gaia Olenti a Milano. Sembra lo scatto di un turista, è il volto, secondo la procura di Bari, di uno dei più pericolosi soldati dell'ISIS. Atman Tuomi, 36 anni, algerino, fermato oggi dalla polizia. Il 17 luglio del 2015 lo trovano su un treno con un documento falso appena incontrato, secondo la polizia, i terroristi che entreranno in azione nel Bataclan quattro mesi dopo. È la sua cellula ai jihadisti ai quali offre alloggi sicuri e carte di identità contraffatte. Condannato a due anni, continua a tenere dal carcere i contatti con la rete del radicalismo islamico dal Nord Africa al Belgio. Nel centro di permanenza temporanea di Bari, recluta nuovi jihadisti, diffondendo la fatua dell'imam della moschea di Fitzbury Park a Londra, la culla di centinaia di terroristi in Europa. Bari, indubbiamente, è un punto di passaggio. Infatti moltissimi autori di attentati sono passati da Bari. La procura di Bari, le forze dell'ordine di Bari e la polizia di Stato non sta a guardare. Tuomi avrebbe finito di scontare la pena a luglio. Era pronto, scrive il PM nel decreto di fermo, a tornare al servizio della rete di jihadisti sopravvissuta nell'ombra alla dissoluzione dello Stato islamico. Grazie. 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 Grazie.